Leggo dalla Fiamma e dal Globo in edicola questa mattina, lunedì, da questa mattina, ormai siamo alle 5 del tardo pomeriggio qui in Australia, del giorno 16 gennaio 2017, oggi in edicola i nostri giornali, Fiamma e Globo per questa edizione del lunedì. I titoli principali riguardano tutta pagina, il titolo per la politica italiana, le unioni civili sono leggi, anzi sono legge, Gentiloni, il primo ministro italiano, le riforme non si fermano, via libera 8 delegates della buona scuola, aggiornati i livelli essenziali di assistenza, vaccini gratis per tutti e senza pagamento del ticket. La fotografia invece, eccola qua, la faccio dire di nuovo principale, riguarda l'attuale visita del primo ministro giapponese in Australia, ricevuto da Turnbull, il nostro primo ministro, quello cioè australiano, e due si preparano al ciclone, almeno il titolo del nostro giornale, dei nostri giornali Globo e Fiamma, Turnbull e Abe si preparano al ciclone Trump per le strategie per competere o, se non altro, per colloquiare, stabilire un rapporto con il nuovo presidente degli Stati Uniti. Ultima ora, catturato il latitante Andrea Nizza, ovviamente dall'Italia, killer dei Santa Paola, ancora dalla prima pagina di Globo e Fiamma, richiedendo asilo in detenzione, schiaffo all'Unione Europea, governo ungherese, ripristina la misura di custodia cautelare. Poi dall'articolo 18 la consulta boccia il quesito, la CGL valuta il ricorso. Si parla anche, soprattutto, il lunedì di sport, il campionato di calcio di Serie A, almeno le partite già disputate, perché poi noi quando andiamo in stampa con questa edizione, sono più o meno le due o le tre del mattino, qui in Australia, del lunedì, per uscire per essere in edicola alle quattro, ovviamente ci sono delle partite ancora che si devono disputare, sarebbero le partite che si disputano in serata in Italia, e qui vediamo o ascoltiamo la mattina verso le sei, le sette, dipende dagli orari, i posticipi, i cosiddetti posticipi. Stamattina c'è stato, per esempio, la Juventus e la Fiorentina, con l'incredibile vittoria della Fiorentina a Firenze, per due a uno sulla favorita Juventus e qualcuno ha titolato e le inseguitrici esultano. No, comunque domani ci sarà un altro recupero, un'altra partita che si disputa notturna in Italia, per esempio la mattina e il giorno dopo. Inter chievo 3 a 1, i Nerazzurri la spuntano nel finale, c'è tanto sport e c'è una notizia che riguarda i toscani, vediamo un po', ovviamente poi ci sono le notizie locali che riguardano l'Australia, la notizia del resto del mondo, gli annunci economici, tutto quanto fa il giornale, la stampa italiana in Australia, ripeto, Fiamma e Globo, i nostri due bisettimanali in edicola stamattina. Borsa di studio per giovani di origine toscana, eccolo qua, è l'articolo che compare sulla Fiamma, pagina 38, borsa di studio per giovani di origine toscana residenti all'estero o residenti in Australia, non so sicuro, allora c'è la Cedit, la Confartigianata Toscana con i contributi della Regione, gestisce un progetto di 7 borse di formazione professionale, intitolata Mario Olla, destinata ai giovani di origine toscana, si intende all'estero, all'estero, quindi non solo in Australia, ma all'estero, sarebbe bene prendere visione per chi risiede in Australia, se di origine toscana, per partecipare a questo concorso. Questo è quanto, almeno i titoli principali dei nostri due bisettimanali, il Globo e la Fiamma in edicola per l'edizione appunto del lunedì. Voglio ricordare che mercoledì, questo mercoledì, ritorno a Red Italia e cercheremo di fare anche un videoclip delle parti essenziali del programma Spazio Giovani, dedicata soprattutto alla nuova immigrazione qui in Australia da parte dei giovani italiani in cerca di lavoro, ma soprattutto anche di nuove esperienze. Sono cambiate alcune cose nei visti di residenza, nei visti di approccio al lavoro, il Work Holiday Visa, eccetera. È cambiato qualcosa, ovviamente ce ne parleranno i nostri ragazzi, mercoledì dalle 9 del mattino alle 10, per noi mercoledì mattina, qua per voi è martedì notte, il programma si può ascoltare anche streaming su internet, su iPhone, iPad, eccetera. Grazie, ciao.